Gianni Maggi, il Movimento 5 Stelle entra per la prima volta in consiglio regionale, ci entra dalla porta principale con un grande risultato sopra al 20%. Noi dobbiamo ringraziare i marchigiani, veramente abbiamo incontrato un sacco di gente in questa campagna elettorale e i marchigiani hanno capito che noi non siamo il movimento del no, il movimento della protesta che raccoglie il malcontento, noi siamo un movimento propositivo e i marchigiani l'hanno capito e ci hanno premiato in questo senso. Secondo lei perché questo importante successo nelle marche? E' facile dirlo perché girando tutte le marche abbiamo visto che la gente di questa regione era prima di tutto lontanissima rispetto ai cittadini e poi di questa regione condivideva quasi niente perché nella sanità, nel lavoro, nella trasparenza, nella difesa del territorio e dell'ambiente questa regione è stata veramente carente. Che tipo di opposizione sarà quella del Movimento 5 Stelle? Come fanno i nostri consiglieri comunali, un'opposizione costruttiva, nel senso che se ci saranno leggi che sono in linea con il nostro programma, che difenderanno gli interessi e la salute dei marchigiani, noi li appoggeremo. Se altrimenti sarà la politica del PD come quella del PD di spacca, troverà un'opposizione puntuale e precisa nel Movimento 5 Stelle. I nodi principali da sciogliere per questa regione? Innanzitutto l'occupazione, questa è per la dignità delle persone, noi per l'occupazione ci batteremo non in favore delle grandi aziende come si è fatto, che poi abbiamo visto i risultati. Ci batteremo per l'occupazione facendo leggi per la salvaguardaria del territorio, delle nostre coste, della nostra cultura, del nostro ambiente. Questo oltre a creare un volano per l'economia e naturalmente per il turismo, creerà un sacco di posti di lavoro, cosa che non ha fatto fino adesso la regione perché si è occupata di altro. Grazie!